Coesione e coerenza. Indici di coesione sono quelli morfologici che si vedono nel significante, cioè per esempio, l'esempio che facevamo ieri era Gianni va in un ristorante, ordina alla cameriera un cocco, lo mangia, paga il conto e va via. Quello mangia, quello, noi già sappiamo che ordina è Gianni, anche se appunto implicitamente non lo diciamo, in italiano si fa così, non c'è bisogno di ripeterlo, implicitamente si fa cercare lo stesso soggetto della frase precedente e questo già, ripeto, è un indice di coesione testuale, noi la coesione la realizziamo in questo modo. E quello mangia, quel no è un altro elemento forte di coesione, al di là poi di tutti gli accordi, le terze persone, appunto con i pronomi, con l'anafora, abbiamo già detto anche con le catafore, noi realizziamo la coesione. La coerenza invece è quella che si stabilisce su un piano del significato, quindi su un piano semantico, la coerenza è quando si attiva una rete e tutti gli elementi sono coerenti, no, nell'ambito di quella rete, quindi abbiamo detto ristorante, cameriera, conto, fanno parte di una rete semantica che si attiva alla quale il parlante fa riferimento anche senza esplicitarlo, no? Poi in questo caso è ben esplicitato, il destinatario sente questi elementi e anche lui attiva tutta quella rete, quindi si immagina altre cose che non sono state dette, come appunto la cameriera porta un menu, una lista delle vivande che Gianni la apre, la consulta, scegliono, tutta una serie di situazioni che ci aspettiamo. Nel secondo esempio in cui invece c'era l'anerottolo che vendeva topi, che erano cose piuttosto bizzarre, questa rete, questa coerenza viene un po' meno, no? Però noi siamo in grado di compensare, no? In qualità di utenti attivi, quindi i fruttori attivi, siamo in grado di compensare. Ora di questo tratta un libro bellissimo che vi consiglio, anche se è forse eccessivamente tecnico, che è Lector in fabula di Umberto Eco, libro degli anni, fine anni 70, primi anni 80, in cui si parla molto chiaramente di questo ruolo attivo del fruitore, diciamo del destinatario, che entra a far parte lui stesso dell'opera letteraria, no? Quindi un testo, sì, viene concepito da qualcuno che però appunto lo affida alla collettività e poi i membri della collettività ne fanno un uso proprio, quindi quel testo vive nella loro lettura, nelle diverse letture. Ora, Lector in fabula è un testo importante in cui trovate anche racconti, in cui si vede che la coesione e la coerenza sono fondamentali, ma sono anche messi in gioco, nel momento in cui l'autore viola alcuni principi, alcuni di questi criteri, che sono appunto quello di coesione e coerenza, creando delle ambiguità, creando delle, un'apertura, diciamo, della rete semantica sul piano della coerenza, che poi noi colmiamo, andiamo a richiudere percorrendo certi percorsi appunto. Mi riferisco in particolare a un racconto che cita Umberto Eco, che era già stato pubblicato, alla fine dell'Ottocento, su un giornale francese, appuntate tra l'altro, il racconto del Templare e della piroga congolese. Già dal titolo si capisce, insomma, che c'è una presa di rischio da parte dell'autore che assembla reti enciclopediche, se vogliamo, reti di conoscenze diverse. Dunque, Templare e piroga congolese perché? Perché si tratta di un ballo in maschera in cui due personaggi si travestono, uno da Templare e l'altro da piroga congolese. Travestirsi da piroga, non è, sapete cos'è una piroga, no? Non è, non è una cosa di tutti i giorni, insomma, ecco. Quindi quest'autore era molto avanti nei tempi, come dicevo già ieri, Jules Verne, hanno provato a sperimentare e l'effetto è abbastanza suggestivo. Quindi leggendo questa storia il lettore a un certo punto scopre di essersi invischiato in un circolo vizioso, scopre di essere stato ingannato dall'autore. È davvero molto suggestivo, ma è solo un esempio. Ormai ne avete visti tutti colori, ne abbiamo visti tutti colori in questi anni anche al cinema, no? Perché anche il cinema offre un esempio di testo, un testo multimediale, cosa di cui qui non trattiamo, però avete capito il principio. Quindi quando noi scriviamo un testo informativo, descrittivo, quando ci chiedono di essere rigorosi, dobbiamo stare attenti al rispetto assoluto di questi criteri di testualità. Mentre se invece ci chiedono appunto di essere creativi, allora tutta la creatività noi oggi ce la giochiamo proprio in queste violazioni, violazioni misurate e inserite nei punti giusti perché il testo sia attrattivo. E' un po' nell'esempio di Coccovin c'era questo, no? Cioè io dico una parola che nessuno sa cosa voglia dire, voglio dire se uno fa francese un po' l'idea ce l'ha, no? Però appunto non è per niente importante, poteva essere davvero una parola inventata, come si usava nell'Ottocento, una parola blittri, che chiede, Gianni va al ristorante, ordina alla cameriera un blittri. Poteva essere, io potevo dire la parola blittri, che appunto la trovate sui inizionali italiani proprio per indicare una parola non sense, che non ha nessun significato, ma è una parola da gioco, no? Un ludismo diciamo noi, no? E però si capiva, si sarebbe capito, cioè il parlante, pensate al bambino come fa a raccogliere informazioni, il parlante sentendo dire che Gianni ordina un blittri in quel contesto, eppure guardate un testo di tre frasi, cioè due righe, in un testo di due righe sappiamo già cosa può voler dire blittri. Poi ci mancano alcuni tratti semantici, dobbiamo definire ulteriormente, ma se il testo si dilunga e ci ripropone questa parola in un altro uso, in un'altra modalità di uso, noi sappiamo dedurre il significato di quella parola in quel contesto, il contributo che dà quella parola al significato del testo, anche senza trovarla su un dizionario, anche senza aver bisogno del dizionario. E questa è la semantica, no? Che richiede investimento in questo momento.